Siamo questa sera con i protagonisti di un evento sportivo non solo che a settembre tornerà ad animare il cannavese un cannavese che ormai dopo due stagioni difficili quelle la pandemia ha tanta voglia di riaprire le proprie aree, le proprie pazze, i propri palazzetti, i propri teatri a eventi che portino sicuramente non solo gente ma anche e soprattutto allegria e serenità tra questi come non citare il Busano Motor Show che raggiunge la sua non edizione si svolgerà quasi a fine settembre esattamente dal 23 al 25 siamo qua con tre ospiti speciali che sono a iniziare dalla mia sinistra Francesco Diaco che è l'ideatore, l'anima di quello che è il Busano Motor Show Buonasera Francesco Siamo con il padrone di casa in questo caso visto che è il primo cittadino anche lui colonna storica di quello che è il cannavese ovvero Gian Battistino Chiono Buonasera Gian Battistino Ciao E infine con un ospite altrettanto speciale e importante Mauro Fava consigliere regionale ma soprattutto uomo non solo di politica ma di territorio che è fortemente legato al cannavese in questi anni ha sempre fatto tanto e continua a fare tantissimo per il territorio Buonasera Mauro Buonasera a te, buonasera a tutti Bene, io direi di partire prima con Francesco per raccontare un attimino quello che sarà La nuova edizione sotto il punto di vista sportivo e motori nuovamente protagonisti motori che negli anni effettivamente tramite la vostra, la tua idea, la vostra idea, quella che è diventata è una bella realtà, ho portato in cannavese tantissima gente Allora noi è la passione che ci fa portare in cannavese questo, tutto questo, la passione dei motori, l'amicizia e tanta tanta gente da starci vicino per passare tre giorni di vero, vero, vero passione a livello territoriale cannavese Tra l'altro passione che è cannavesana sicuramente ma che come già anticipato anche tu non è solo legata al territorio perché avrete tantissimi ospiti che arriveranno non solo qua ma dal Piemonte ma anche da fuori Piemonte perché ormai è diventato un evento nazionale il Busano Motor Show Allora il Busano Motor Show porta gente territoriale dalle varie regioni italiane e anche delle ramificazioni anche dall'estero, abbiamo degli ospiti anche dall'estero e questo ci fa essere contenti e soddisfatti dell'operato Posto un attimino al primo cittadino, al sindaco di Busano Chiono, Giabattistino Tu che rappresenti il Comune, un Comune che ha sempre avuto mente molto aperta volontà di fare sempre qualcosa al di là di quello che è proprio il territorio comunale anche per il territorio cannavesano, cosa significa avere un evento di questo genere in casa vostra? Sicuramente intanto buonasera a tutti intanto devo ringraziare Francesco Diaco che è veramente ideatore, l'anima e tutto del Motor Show sicuramente insieme anche a tutti i suoi ragazzi del team ma principalmente adulta che è quello che poi ha gestito tutta la situazione Il Busano Motor Show per Busano è sicuramente un avvenimento eccezionale perché ha dato la possibilità di far conoscere Busano il livello nazionale perché prima praticavamo ad essere conosciuto a livello regionale e quindi con l'evento, adesso appunto la non edizione abbiamo allargato i nostri confini proprio perché visto che comunque vengono anche dei piloti da fuori regione e quindi bene o male considerato anche che comunque anche la televisione dico la RAI ma molte televisioni locali riprendono questo evento e quindi sicuramente per noi è importante chiaro che Busano non è una comune a vocazione turistica è piuttosto a vocazione industriale speriamo che esista visto i tempi io me lo auguro e quindi non fa che parte bene perché fa conoscere comunque delle aziende che altrimenti non avrebbero mai conosciuto fuori dal nostro territorio perché appunto il circuito del Busano Motor Show è all'interno di una zona industriale di Busano Mauro invece con te parliamo appunto come ti ho anticipato prima sì, legato fortemente al territorio perché oltre che Canavesano lavori molto per il bene della nostra zona quello che ti chiedo quanto è importante anche per tu che sei rappresentante di un ente come la regione Piemonte un evento di questo tipo e che rindondanza può avere anche al di fuori di quello che sono i nostri patri confini innanzitutto un ringraziamento all'ideatore all'inventore di questa manifestazione che ormai è uscita fuori non solo dal territorio regionale né nazionale ma come diceva prima Francesco si sta espandendo molto di più noi come regione io come rappresentante oggi qua dico queste manifestazioni che si parla di motori perché si parla di motori del nostro territorio noi abbiamo un territorio dov'è che la vocazione come diceva il sindaco è una vocazione industriale ma sempre sull'automotive questo rende grande ancora di più questa manifestazione noi abbiamo la fortuna di avere uno come Francesco che crede in questa manifestazione che ci ha creduto nove anni fa e tuttora ci crede che ha portato a livelli talmente importanti per il nostro territorio che è un orgoglio di una manifestazione così importante da portare in giro noi lo vediamo come quando si patrocinano una manifestazione una manifestazione del genere è degna di un patrocinio della regione perché ti fa conoscere al di fuori del tuo territorio vediamo che quando arrivano la gente non arriva solo dai paesi limitrofi ma arriva anche da fuori regione oltre a essere i concorrenti che vengono a partecipare la cosa più importante che mi porta a pensare di una manifestazione del genere è come dice il sindaco speriamo che se lo ricordano fuori dal territorio Busano Busano bisogna ricordarsi di Busano di tutto il territorio perché Francesco è una persona che lavora per tutto il nostro territorio Busano per tre giorni riviene il centro del mondo su quanto riguarda l'automobilismo e questa è la cosa più importante bisogna riconoscere la volontà di un sindaco di prendersi una responsabilità di dare l'opportunità a una manifestazione di poter essere riconosciuta a livello nazionale come questa e quello rende grande il nostro territorio e come io come rappresentante in regione del nostro territorio non posso che essere orgoglioso orgoglioso di Francesco e del sindaco perché ci danno una possibilità in più di avere una visibilità al di fuori dei nostri confini e quello vuol dire far crescere il territorio poi come diceva il sindaco prima i tempi non sono di quelli più felici ma noi guardiamo bicchiere da mezzo vuoto a pieno così pensiamo che la felicità ci arrivi anche dopo la manifestazione vuol dire correre dietro ai risultati e le cose positive portano sempre del bene Francesco torniamo a te e parliamo di motorshow busano motorshow non solo come evento motoristico ma a 360 gradi nel senso che ci saranno le opportunità anche di altre situazioni di altri momenti al di là di quelle che saranno poi le esibizioni dei vari piloti che ci saranno ci vuole raccontare anche di quello che diciamo così sono le questioni collaterali i momenti collaterali che andranno ad animare gli altri giorni di settembre a busano allora noi abbiamo abbiamo avuto due anni per la situazione in modo che siamo dovuti stare con le mani legate quest'anno ci hanno sciolto ci hanno sciolto finalmente purtroppo abbiamo dovuto ritardare il nostro evento perché abbiamo dovuto ritardarlo perché appena hanno liberato tutto gli eventi canavesani sono stati tanti nel senso con le patronali con tante tanta gente che come me tiene al territorio e cerca di crearsi il suo evento allora per non accavallare evento suo evento abbiamo detto aspettiamo settembre invece che giugno quest'anno lo facciamo settembre verso di giugno sono tre giorni 23, 24, 25 settembre che faremo un'introduzione il venerdì sera dove abbiamo un piccolo spettacolo creato da dei ragazzi dei nostri ragazzi legati sempre a reparto motori poi subito dopo abbiamo la salata gastronomica che è importante motori e buona cucina o non sembra corte ma se no di fatti bisogna guardate me come sono del loro tozzo con tutti i soldi che ho speso a diventare così automaticamente devo continuare a pensare a mangiare e in pratica faremo un piccolo spettacolo verso le 18 e 30 19 subito dopo una buona cucina nel capannone il padiglione gastronomico avremo il nostro padiglione gastronomico e verso le 21 la serata danzante danzante con disco energia e questo raggruppa il venerdì sera il sabato il sabato pomeriggio prenderemo faremo un po' di taxi drift e drift porteremo le persone a fare un giro sulle nostre vetture tutto con la massima sicurezza e il sabato sera verso le 18 diciamo verso le 18 18 e 30 ci sarà la grande inaugurazione del busano motoshow la grande inaugurazione del busano motoshow verrà verso le 18 e 30 massimo le 19 dove poi chi vuole si può lecare nel padiglione gastronomico invece poi alle 20 ci troveremo tutti davanti al piazzale dove noi facciamo dove i piloti faranno le loro esibizioni e andremo avanti fino alle 23 e 30 così non disturbiamo nessuno quelli che vogliono andare a dormire dopo anche perché col comandante dei carabinieri di Rivara che lo saluto abbiamo detto cerchiamo di fare le cose che siano a posto che non a regola che non disturbiamo dopo poi la domenica premetto questo mi sono fatto il regalo di compleanno mi sono fatto il regalo di compleanno la mia passione i motori tutto quello che gli amici e tutto quello che contorna non potevo farmi il regalo migliore 25 settembre faremo il grande show il busano motoshow faremo partire dalle 9 del mattino faremo partire lo show e andremo avanti fino alle 18 e 30 diciamo che di carne e fuoco ce n'è tanta quindi il divertimento non mancherà di sicuro speriamo ma ne siamo sicuri Gio Battistino torno con te appunto per visto che oltre ad essere sindaco sei anche sempre presente a questi eventi ne fai parte sei un pezzo di questo meccanismo importante quanto è anche secondo te importante che l'amministratore un amministratore un sindaco sia coinvolto e dia la propria faccia la propria parte in un momento così importante per la propria cittadinanza e come per il territorio credo che sia importante per i nostri comuni che comunque se si fa qualunque manifestazione che anche comunque il sindaco e l'amministrazione partecipi perché se non c'è una partecipazione vuol dire che sì va bene si fa questa manifestazione ma non c'è un interesse non ci crede io fin dall'inizio quando appunto 9 anni fa forse anche 10 perché forse avevamo saltato un anno adesso vado un po' un altro perché non ricordo esattamente Francesco mi ha proposto questa questa iniziativa questa sua idea io sono stato subito vorrei anche se avevo comunque mille dubbi perché non sapevo esattamente cos'era non è che sapevo esattamente cosa si trattava ma dato che comunque mi piaceva l'idea sapevo che comunque in un comune come diceva l'amico Mauro convocazione industriale principalmente facciamo lavoro di meccanica per le auto e camion e quindi poteva essere più che una cosa bella da fare da farsi conoscere quindi ecco il fatto che io partecipi perché partecipo perché ci credo quindi non mi è stato difficile o pesante dare una mano essere coinvolto andare anche a fare i turni per la gestione di quella che è la viabilità della sicurezza esterna diciamo perché con l'interno del circuito ha i suoi uomini Francesco quindi non noi noi diamo una mano all'esterno perché chiaramente dato che passano diverse persone e quindi bisogna che ci sia qualcuno che comunque dia delle indicazioni di modo che la gente che non è proprio del territorio sappia da che parte deve entrare da che parte deve uscire perché magari uscire è più facile ma soprattutto entrare per accedere per poter andare a passare la mezz'ora l'ora due ore quello che poi ritiene opportuno quelli che sono più sensibili o i più appassionati rimangono anche lì in mezza giornata gli altri magari dopo un'ora o due vanno via dopo mezz'ora lì nessuno trattiene tanto come dire l'ingresso è gratis non è che si paga l'uscita quindi ognuno è libero di fare quello che vuole allora ripeto dato che passano tante tante persone se non c'è anche una gestione interna esterna diventa veramente problematico magari rischioso perché poi magari qualcuno che vistizza poi non parcheggiano le macchine nel modo giusto va bene che abbiamo anche negli anni migliorato diciamo l'organizzazione cioè la parte dei parcheggi infatti all'inizio si è fatto in un modo il secondo anno il terzo cioè ogni anno abbiamo visto che c'erano delle possibilità di migliorare l'abbiamo migliorato adesso abbiamo recuperato ormai da due oltre anni un punto di parcheggio che è vicino a dove c'è il circuito che girano le macchine che è vicino al circuito ripeto è ampio ci sta un bel po' di macchina quindi prima che riempirlo riusciamo a contentare un bel po' di gente perché quando uno organizza qualcosa l'importante è che poi ci sia l'accoglienza che quando uno arriva si sia dove vai parcheggiare che il parcheggio sia anche comodo rispetto a il punto in cui dopo uno deve andare a godersi lo spettacolo Mauro con te affrontiamo anche una parte importante propenderante di questo Busone Motor Show perché negli anni ne parlavamo prima anche a telecamere spente con Francesco e anche con te lui ha già anticipato il solito pomeriggio ci sarà un momento particolare che si chiama taxi drift dove ci sarà l'opportunità di dare una mano a chi è più bisogno e ti chiedo quanto è importante anche che eventi come il Busone Motor Show diano quest'impronta di solidarietà di aiuto alle persone che hanno più bisogno innanzitutto bisogna ringraziare Francesco tutta la sua famiglia perché hanno una vena di solidarietà verso chi è meno fortunato di noi indescrivibile sono veramente persone di cuore che ogni volta che fanno una manifestazione che partecipano a qualcosa la prima cosa che viene a loro dire c'è qualcuno che forse sta meno bene di noi diamogli una mano e questo è quello che onora anche il Motor Show perché da quando è nato ha sempre dato una mano ha sempre verso qualcuno che era più in difficoltà oggi è una parte molto molto importante ma questo sta a dimostrare che il nostro territorio è vicino a queste difficoltà che tutti i giorni circondano le nostre famiglie purtroppo il periodo non è felice per nessuno ma tanto meno per chi ha già delle difficoltà oggi come oggi sono ancora più accentuate e grazie anche a queste iniziative dove noi onoriamo proprio come sta facendo la famiglia di Francesco di portare la solidarietà a casa di qualcuno che ha necessità necessità non perché hanno qualcosa di diverso ma perché sono solo meno fortunati di noi noi quando abbiamo certe fortune a volte non le odiamo ma dovremmo essere fortunati e ringraziare che ci sia gente anche che ci pensa a chi è meno di noi con noi questa sera abbiamo anche un altro ospite un altro importante rappresentante delle comuni di Busano abbiamo Leonardo Corbo vice sindaco buonasera Leonardo e con te ripartiamo con una domanda riguardo appunto questo appuntamento quello che tu che sei anche tra virgolette un veterano di tanti eventi sei uno sportivo a 360 gradi quanto è importante per Busano per la vostra realtà un evento di questo tipo e avere dopo questo periodo veramente molto complicato di nuovo tornare a dare un po' di normalità un po' di vita a quello che è il territorio cannavesano che ne aveva bisogno dopo il covid e la pandemia prego sì che ne abbia bisogno il cannavesano è un po' di dopo il covid è molto importante verso l'Iago è organizzata tutta la sua riposizione e il cannavesano vuol dire tanto anche specialmente per i nostri cannavesi che sono stati molto interessati da voi effettivamente il fatto di organizzare di avere un evento proprio in uno di poli delle parti il poli industriale di Busano significa anche dare un po' di vitalità a una parte a una parte esatto del paese che tra le virgolette può essere meno conosciuta se non da chi effettivamente lo fa la conosce per la volta tanto adesso lo conosco abbastanza bene perciò continua pure così quindi Leonardo anche per te che sei appunto amministratore e sei rappresentante del comune ma da cittadino di Busano è importante che ci sia un evento come questo sono molto contento tutti i cittadini e non solo i cittadini di Busano perché infatti sono tanti quelli non solo busanesi ma da tutto il cannavesi da tutto il Piemonte da fuori regione che vengono a trovarvi e scoprono quello che è la realtà di Busano che è importante anche questo Mauro Busano Motor Show è uno degli eventi del 2022 che animeranno il nostro territorio animeranno il nostro canavese animeranno la provincia di Torino animeranno il Piemonte raccontaci cosa significa secondo te anche questa ripartenza a livello di eventi questo 2022 dove è vero che siamo di nuovo un po' in un periodo particolare ma finalmente siamo tornati a respirare quell'area che c'era un po' mancata in questi due anni come dicevi in un periodo un po' critico un po' ancora però se ne sta uscendo bene la gente ha imparato a fare attenzione là dove serve ma oggi la tua domanda è stata ben centrata su una cosa cosa ne pensiamo di questo Busano Motor Show che secondo me è un po' il fiore all'occhiello delle manifestazioni automobilistiche che abbiamo anche a livello nazionale perché è una manifestazione creata in un luogo dove non disturba nessuno messa ad arte proprio per non creare quei disagi che i cittadini possono sempre dire ma c'era rumore c'era tante cose che hanno disturbato la pietra e lì siamo isolati ringraziando tutti chi è che presta i loro territori i loro piazzali proprio per questo evento questa è la cosa importante e l'idea che ha avuto Francesco fin dall'inizio quella di creare una manifestazione di motori rombanti ma non fastidiosi per chi non la pensa e chi lo può vedere anche diversamente da quello che può manifestare una manifestazione così importante oggi c'è da dire che sentire i motori rombare così e pensare che al 2035 vorrebbero eliminarli forse c'è qualcosa un po' di follia in giro bene l'attenzione all'ambiente bene tante situazioni che verranno a crescere bene al motore elettrico ma non dimentichiamo che il motore termico è una realtà che oggi si vede anche dando delle soddisfazioni a realizzare dei punti dei momenti di incontro così importanti che non sono solo o le auto storiche o quant'altro ma sono vedere dei motori delle piloti preparati a fare vedere delle situazioni veramente incredibili io ne sono per le prove che quando sono sceso non posso dire com'ero ma ero soddisfatto da una parte ma mi faccio vedere il video che mi hanno fatto perché se no un po' di preoccupazione d'occhio a che niente youtube busano motoshow mauro fava e stefano canale e vedete la faccia di mauro fava a 360 gradi un punto di definito usano motoshow tutte le manifestazioni canalesane e innanzitutto tutti gli amministratori canalesani che ospitano manifestazioni a questo livello va a ringraziamento di tutta la regione perché vuol dire fare crescere il nostro territorio come ho detto prima noi cresciamo se ci sono loro che crescono crescono con le manifestazioni crescono con chi ha la passione la buona volontà di fare del turismo perché infine è turismo anche questo è turismo fatto in modo diverso ma da far crescere il territorio e poi uniamo oltre al turismo come si diceva prima la vocazione territoriale quella dell'industria che si occupa del settore dell'automotive e quello è un punto a favore del nostro territorio ma quello è da elogiare a tutti i nostri imprenditori che continuano a insistere per portare avanti in questo territorio questa situazione così importante per noi Francesco l'ultima transce l'ultima parola la lasciamo a te nel senso che abbiamo tracciato un attimino quello che è il programma quello che saranno alcune delle tante iniziative di tanti momenti che diciamo così daranno sicuramente la giusta verba a queste tre giorni ricordiamo 23, 24, 25 settembre non edizione del Busano Motor Shop però giustamente in chiusura ci vogliono i classici ringraziamenti perché c'è sicuramente ancora prima di iniziare delle persone delle realtà da ringraziare perché se si va avanti oltre alla grande passione tua del tuo gruppo di lavoro che ricordiamo sono persone di tutte le età giovani e meno giovani che hanno veramente un grandissimo amore e lo fanno unicamente per passione e per amore e non per altri motivi a te la parola e quindi a chi vogliamo rivolgere questi ringraziamenti senza levare niente a nessuno il primo ringraziamento ma il primo in assoluto a mia moglie e ai miei figli perché comunque loro sono l'anima di tutto perché mi spingono mi aiutano magari borbottano ma mi vengono dietro e questo io lo devo riconoscere Ilenia è il top è il top delle mogli perché comunque qualsiasi cosa che io metto qualsiasi cosa che dico magari me la borbotta però poi la fa come piace a me Martino e Noemi i miei nipotini il mio grande amico Chiono e lui lo sa perché comunque io ho avuto un gran successo dietro sto Busano Motoshow ma questo è grazie anche a lui perché mi ha creduto mi ha dato una bella mano e siamo diventati quello che siamo siamo riusciti ad arrivare dove siamo arrivati Leonardo Corbo e il mio amico Mauro che è anni che noi facciamo perché il Busano Motoshow Mauro mi sta seguendo nel Busano Motoshow però abbiamo fatto già altre cose prima poi tutto lo staff che comunque se dobbiamo dirla tutta dovrebbero essere anche già proprio al primo posto perché in quei tre giorni che poi non sono tre sono due quali cose sono 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 quindici giorni di diversi sforzi perché noi andiamo nell'aria puliamo tutta l'aria facciamo un bel lavoro tenendo conto di questa cosa perché al di là del fatto che e l'ho visto con i miei occhi l'abbiamo visto tutti il giorno dopo quello che fate e non è una cosa da poco quella zona ritorna pulita linda perfetta come l'avete trovata forse anche di più noi alla sera stessa della fine della manifestazione portiamo tutto al suo posto e diamo la possibilità a tutte le aziende di poter operare tranquillamente il giorno dopo perché non possiamo dare del danno a queste aziende che ci ospitano poi un altro ringraziamento va alla protezione civile che ci sostiene ai volontari del 118 al corpo dei carabinieri diciamo che tutte le volte che io vado su in caserma dietro c'è della burocrazia e il comandante della caserma dei carabinieri con i suoi uomini fanno sempre di tutto per poterci accomodare il meglio possibile alla vigilessa del comune di Busano che comunque ci dà una mano anche nel cartaceo alle fabbriche al polo industriale perché tutto il polo industriale comunque diciamo che un pochettino disturbiamo nel senso quando siamo nei preparativi però per loro è una soddisfazione anche per loro vederci lì tutti tutti assieme Simone e Andrea che mi sopportano anche loro mi sopportano anche loro Armando che ci sta dietro ci sta dietro ci sopporta anche se io ogni tanto sono nervoso lui arriva cerca di calmare tutte le acque mettere tutto a posto è il nostro grande Armando Armando vigile del fuoco e poi ringrazio anche tutti voi perché comunque se non ci sono i media automaticamente cosa facciamo noi e ringrazio te ringrazio a ad Andrea Magda in questa edizione del Musano Motoshow 2022 siccome purtroppo la vita non regala solo delle belle sorprese questo qua sarà il primo memorial a a Renzo Vinneis mi si è asciugata pure la gola a dirlo Renzo Vinneis era una persona del mio gruppo che purtroppo in un valore fulminante l'abbiamo perso quest'anno e allora quest'anno voglio dedicare in questo Musano Motoshow 2022 lo voglio dedicare a lui Renzo Vinneis primo memorial a Renzo Vinneis quindi che ancora una volta la dimostrazione che quando ci sono questi eventi gli amici quelli che ci sono quelli che ci sono stati quelli che oggi non ci sono più fisicamente ma rimangono nel nostro cuore nella nostra mente alla fine ci sono sempre vicini e anche in questo caso voi l'avete dimostrato Francesco grazie Leonardo grazie grazie Mauro ringraziamo anche il sindaco Giabattistino Chiodo che è rimasto con noi fino a pochi istanti fa a questo punto l'appuntamento 23, 24, 25 settembre Musano Motor Show venite numerose ci sarà da divertirsi tempo in bellos a questo punto mo